ciao a tutti oggi prepareremo le piadine integrali il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di cottura ingredienti sono farina integrale semola acqua sale olio extravergine d'oliva e lividi istantanei per torte e salate andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la semola la farina integrale il sale il lievito istantaneo per torte salate l'olio e l'acqua chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità spiga l'impasto è pronto adesso lo andremo a rimuovere dal boccale adesso lo compattiamo un po con le mani lo andremo a rivestire con pellicola trasparente e lo riporremo in frigo per un quarto d'ora circa abbiamo ripreso l'impasto dal frigo adesso rimuoveremo la pellicola trasparente e lo inizieremo a porzionare per formare le piatine manterremo sempre la pellicola per evitare che si asciughi ricopriamo il resto dell'impasto con pellicola trasparente mettiamo momentaneamente da parte e iniziamo a stendere la piatina una volta stesa la piatina la metteremo da parte coprendola con pellicola trasparente e proseguiremo così per tutto il resto del composto una volta formate tutte le piatine le andremo a cuocere con una padella antiaderente da entrambi i lati una volta cotte le piatine possono essere servite come sostituto del pane o condite a piacere piatine integrali grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti